Ciao, io sono Paolo, ho 35 anni e sono nato e cresciuto qui a Perugia e posso dire fieramente di appartenere ad una famiglia che ha avuto delle gioiellerie molto importanti qui nel contesto dell'oreficeria perugina. Ho sempre amato i gioielli, ho sempre amato questi oggetti così magici e così che ti fanno sognare. Da una passione pian piano è diventato un lavoro. Nel 2009 ho cominciato a lavorare in una nota gioielleria di Perugia e ho lavorato lì per circa 5 anni. La soddisfazione più grossa è stata sicuramente oltre che potermi formare e poter conoscere il mondo della gioielleria e anche avere i rapporti con i clienti. E queste probabilmente sono state le soddisfazioni più grandi perché nonostante sono passati tanti anni, nonostante io non lavori più in quel contesto ma qui da oro migliore, ancora mi cercano e ancora hanno bisogno del mio consiglio qualora avessero bisogno di gioielli o di preziosi da regalare o da regalarsi. Alla fine del 2014 ho conosciuto oro migliore, prima come cliente, poi pian pianino dopo che ci siamo conosciuti, dopo diverse volte ho ricevuto la proposta di lavorare per oro migliore. E devo dire che è stata una grandissima scoperta perché ho trovato un team un team estremamente professionale, un team ben coeso e anche la possibilità di poter approfondire quelle che erano le mie conoscenze pregresse e aumentarle andando a fare tantissimi corsi di formazione, prendendo anche dei diplomi per diventare gemmologo, gemmologo IG Ambersa. Questo è stato per me una realizzazione di un sogno, di un sogno perché ho potuto trasformare quello che era la passione per i gioielli tramandata dalla mia famiglia in un lavoro poi vero e proprio che mi permette di poter andare avanti e mi permette anche di crescere e di evolvermi sempre di più. Le cose importanti che dopo tutti questi anni sono riuscito a capire facendo questo lavoro sono state sicuramente la sincerità e l'obiettività nei confronti dei clienti, essere sempre onesti e ben limpidi, cercare di far capire sempre al cliente quella che è la verità dei gioielli e la verità anche di questo settore, quindi andando a spiegare e dando anche le mie conoscenze a loro. Per me lavorare con Oro Migliore è stata una grandissima fortuna perché veramente mi sento estremamente gratificato, mi sento molto appagato nel mio lavoro e tutto quello che faccio viene riconosciuto, quindi questo è una cosa per me molto importante e anche una cosa che mi auguro che tutti possano avere un team e un gruppo di lavoro così come quello che ho io. Ho realizzato il mio sogno perché comunque io ho avuto anche altre strade nel corso della vita però nonostante questo ho scelto Oro Migliore perché per me è come stare a casa perché mi ritrovo in una realtà familiare però allo stesso tempo molto molto professionale. Io vi ringrazio e a presto!